La squadra c'è tutta, sono ragazzi validi, manca solo il punto, però la squadra c'è. Oggi pure abbiamo formalizzato l'acquisto del difensore centrale, domenica scorsa abbiamo avuto un po' di problemi, l'acquisto di Panarelli, quindi penso che ad oggi la rosa è completa, è competitiva, tutti i ragazzi validi, tutti i ragazzi importanti, quindi adesso ci manca solo la vittoria. Fino ad oggi? Che sensazione hai avuto da questa pianta? Lei non è vallese, però si è proposta alla guida di questa squadra. Io non sono vallese, però comunque dall'inizio ho notato una grossa disponibilità, una grossa mano mi stanno dando perché comunque è un paese nuovo, un paese per me nuovo, anche se lavorativamente parlando conoscevo già questa zona. Lei non è nuovo al mondo calcistico? No, al mondo calcistico assolutamente no, io sono un vincente fortunatamente, quest'anno è iniziato un po' male, però sono sicuro che la mia indole è quella di vincere, prima o poi uscirà fuori, quando uno crede, quando uno ha delle ambizioni, prima o poi usciranno. E infine Francesco Sica! Buonasera, Francesco Sica è arrivato da Lucania, è attaccante. Bravo! Al suo fianco, un volto sicuramente conosciuto ai Vallesi e ai Cilentani, un ex capitano, il gran ritorno di Sica. Il nostro agognato Sica è tornato in patria, dopo un periodo di un po' di sbandamento, comunque sia per problemi suoi personali, sia per problemi nostri organizzativi e di scelte, era un attimino fermo in stand-by, però comunque come giocatore non si discute, come persona altrettanto nel campo ci mette l'anima, quindi penso che quest'anno, è stato con me l'anno scorso, ha dato l'anima e ha dato grande soddisfazione. Quindi quest'anno è un impegno suo, morale, di regalarmi questa grande soddisfazione. Ci ho messo l'anima per portarlo di nuovo qua. Penso che, spero che mi ripagherà prima di tutto come fiducia, come impegno e pure come risultati nel campo. Beh, su queste parole non possiamo tradire la fiducia del Presidente. Assolutamente, ringrazio. Assoluto, ben ritrovato. Grazie, grazie mille, sono contentissimo di essere qui stasera. Un po' di emozione. Eh, un po' sì, sì. Un po' troppa. Che cosa rappresenta per te questo ritorno? Che rappresenta? Rappresenta dopo un'annata del genere, cioè l'annata scorsa, voglio fare altrettanto, voglio fare bene anch'io quest'anno e spero di riuscirci. Allora, per sì che un ritorno, per voi un inizio, l'abbiamo già detto qualche settimana fa, la luce però delle prime due partite. È arrivato il momento di raccogliere, credo. Penso che in queste due partite, fino ad ora, abbiamo seminato, abbiamo seminato tanto, raccolto zero. Allora, ci sono grandi aspettative, lo avrete capito, tra il pubblico occidentale. Sì, la società e il pubblico ci sono molto vicini, quindi ora sta a noi ripagare i loro sforzi. Mi chiedono i problemi. Buonasera a tutti, mi chiedono i problemi, il terzo segnistro di lavoro. Bravo! Io prendo dalle ultime parole del vicepresidente, ecco, non so se a fine campionato lei avrà ancora la voce, perché davvero si sta spendendo per questi ragazzi e per questa squadra. Ma io onestamente ciò, forse delle volte sono anche un po' troppo duro, ma faccio tutto questo non per me, ma soprattutto per la squadra, perché onestamente voglio cercare di portare un qualcosa, voglio dare un'identità a questa squadra. Voglio che la gente si ricordi di noi come una squadra che cerchiamo di fare qualcosa di propositivo e che cerchiamo di giocare a pallone. Questo è quello che io voglio e pretendo, insomma, dai miei ragazzi. Quindi il tempo è stato poco per lavorare, ci vuole tempo per fare determinate cose, per mettere dei meccanismi in ballo. Stiamo lavorando tanto e tante volte magari delle cose che sembrano banali magari per me, magari per i ragazzi sono un pochino più difficili e complicate e magari mi arrabbio forse anche troppo. Però purtroppo fa parte del mio carattere, però ripeto che costruisco sempre in base, soprattutto per loro, anche per i più giovani, ma non solo per i giovani. Mi arrabbio con tutti, ma mi arrabbio in maniera positiva perché voglio spronare e voglio cercare di avere il massimo dei ragazzi. Ogni giorno ci rendiamo conto delle difficoltà che ci sono per andare avanti. Siamo tutti volontari, tutti gli amici che danno una mano, la maggior parte sono volontari. C'è gente che sta quotidianamente impegnata con l'accento, quindi da Francesco Scarpa, Primo, Carmine Mainenti, Lerro Damato, Remiccio Rizzo, con il quale ogni tanto ci becchiamo. E' l'amico Luigi inverso, quindi tanta gente tutta a disposizione della squadra. Quindi se non fosse così, probabilmente a ballo la Gelbison non potremmo farlo. Allora Rosario, anche quest'anno attraverso la tua voce seguiremo tutte le partite della Gelbison. Qui abbiamo il nuovo responsabile marketing e poi il vicepresidente. Allora, a te il compito questa sera di presentare un po' ai ragazzi, come sempre c'è grande entusiasmo intorno alla Gelbison. No, innanzitutto è ancora una volta un onore essere poi la voce della Gelbison, dei calciatori, perché fondamentalmente mi sento anche un calciatore, nel senso che ci metto l'impegno che loro mettono, magari correndo, io lo metto con la voce, con la passione e diventa sempre più bello cioè essere poi definito la voce della Gelbison. No, è che dire, veramente è stata una bella serata. Ringrazio Oscar Nicodemo per avermi chiesto praticamente di chiamare tutti i calciatori. Mi ha detto se tu la voce quindi lo devi fare tu e quindi è stato veramente bello. Gli faccio i complimenti, come faccio i complimenti a tutte le persone che magari hanno dato una mano, che hanno collaborato. Faccio i complimenti ai ragazzi, perché credo che domenica sia una partita difficile però dove secondo me uscirà la vera Gelbison. Quindi un appello pure al pubblico di venire, di essere presente, di dare ancora delle chance a Mister Ferraro, a tutti i calciatori, perché possiamo fare benissimo secondo me. Allora, Gelbison si è arricchito ulteriormente, ha un responsabile marketing e qui il manifesto, tieni ferma la tua montagna, abbonati alla Gelbison. Beh, un momento per richiamare l'attenzione degli cilentani tutti su questa importante realtà. Certo, ho coniato questo slogan perché mi sembra molto adeguato. La Gelbison rappresenta l'intero cilento, l'intero comprensorio. Il cilento storicamente e culturalmente non lo scopriamo oggi. E' quello che è, è la cosiddetta terra dei tristi, dove per triste si intendeva, non la condizione moralmente depressa, ma per triste si intendeva, vero Nicoletti, una reazione, un'audacia non indifferente. E questa audacia, questa natura, diciamo, mai perdente, mai rassegnata, vogliamo, cerchiamo di trasmetterla anche ai ragazzi che già ce l'hanno da parte loro perché sono guidati ottimamente da mister Ferraro e loro stessi dimostrano una capacità tecnica non indifferente. Devo dire che sono particolarmente contento di aver trovato a Vallo della Lucania dei ragazzi che si occupano di stampa molto in gamba, essendo occupandomi del settore da diversi decenni, posso dire che raramente si incontrano persone così disponibili, così capaci e così competenti. Allora, i complimenti arrivano da ogni parte, la squadra c'è, c'è un'ottima dirigenza, c'è grande entusiasmo. Lei ha detto, bando alle polemiche, bando alle critiche sterili, pensiamo al risultato. Nel calcio quello che contano comunque sono i risultati, è inutile che ci giriamo intorno. Come già ho detto nel mio intervento, il problema di quest'anno è stato il fatto che siamo partiti in ritardo e dovendo costruire una squadra totalmente nuova. Per cui è anche logico che ancora non siamo a pieno regime. Penso che già da domenica si verrà la vera Gelbison, una Gelbison competitiva. Ancora una volta faccio l'appello a tutti i tifosi, a tutti i vallesi, a tutti i cilentani a stare vicino a questa squadra, a questa realtà, avendo come un unico obiettivo quello di fare una bella figura in questo campionato molto difficile. È difficile anche rispetto a quello dell'anno scorso che abbiamo cambiato il giro. Pensate che domenica dobbiamo giocare con il Brindisi, una società che fa 8.000 presenze allo stadio. Quindi un invito a tutti a stringersi uno con l'altro, ognuno di noi deve portare il proprio mattone come ho sempre detto e anche un appello a dare qualsiasi tipo di contributo anche di natura economica che ognuno può dare. Insieme si costruisce questa realtà, insieme si porta avanti questa realtà e se tutti quanti siamo combatti i risultati non mancheranno. Allora Sindaco, presentazione ufficiale questa sera della Gelbison, della nostra Gelbison che nazionalmente si propone sempre ad un territorio ben più vasto. Il Presidente quest'anno è un esempio, non è un vallese ma ha sposato questo progetto. Sì, è un progetto importante per una squadra che è simbolo e orgoglio di questa città ma non solo di questa città e dell'intero territorio. Appunto è una squadra comprensoriale la Gelbison, lo è stata sempre nel corso degli anni e lo è ancora di più oggi. C'è un Presidente che si è coinvolto in questa storia, che ha preso il testimone perché questo lo dobbiamo dire da una storia che viene importante e gloriosa della Gelbison anzi colgo l'occasione per ringraziare i Presidenti precedenti da Maurizio Puglisi che ha lavorato tantissimo per la Gelbison come l'ha fatto Tony Peccinino, l'ultimo Presidente. Oggi raccoglie un testimone di una storia, ripeto, importante una casa che ha già le fondamente per cui bisogna innanzitutto incrementare il lavoro già fatto continuare in questo percorso e non svarire mai l'ambizione perché è una cosa importante per chi fa sport innanzitutto per chi fa sport ma per chiunque vuole affrontare le sfide del mondo moderno e non trascurando il fatto che la Gelbison deve valorizzare molti talenti del posto questo l'ho detto, lo ribadisco in maniera chiara sia nel settore più in alto qual è la prima squadra ma anche a livello giovanile, a livello dei pulcini questo lo stanno già facendo con molta intelligenza c'è un quadro dirigenziale molto vasto che ringrazio tutti quanti e a nome di tutti ringrazio innanzitutto il Presidente Noce Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti